eccoci qua ben trovati oggi la musica si porta da un gruppo i camera soul e con noi nero lombardo ben trovato piero che piacere ciao a tutti piero senti voi siete un gruppo stratosferico veramente avete girato il mondo siete in classifica in tutto il mondo è una cosa bisogna togliersi il cappello è quando vi si ascolta e quando si parla con voi nice people ai met il vostro nuovo brano in promozione preso benissimo sicuramente dai social e anche dalle radio ce ne parli come nasce allora ma i stipoli mette veramente un brano di ringraziamento un brano di ringraziamento a tutte le persone che ci hanno seguito che hanno ascoltato hanno voluto che arrivassimo lì dove siamo per dire dove siamo intendiamo anche in testa tutte le classifiche internazionali di sol rendi in particolare in giappone proprio notizia regentissima da dieci giorni siamo in vetta la classifica e li giapponesi sono molto attenti a questo genere che amano molto rincognito e gruppi analoghi vero senti i camera soul quando nascono e come nascono allora i camera solo nascono nel 2011 e quindi festeggiano i loro dieci anni con col sesto album che è esagerato da qui è stato estratto appunto nel titolo e mette ed è un gruppo che nasce per il desiderio mio di mio bello tipo di creare soul jazz fatto in una maniera che un po scimmiotta i grandi a qui non fa e se mi wonder tutti quelli che sono all'intorno di questi generi ma allo stesso tempo ci mette molto di personale con con grossi talenti qui della nostra pubblica che hanno partecipato a creare questo piccolo miracolo che stiamo realizzando con il camera solo cosa a questo punto cosa vi aspettate dalla musea avete praticamente a livello mondiale ottenuto tutto allora noi ci aspettiamo quel grande ritorno che dovrebbe essere in line ma che il periodo che viviamo non ci consente di perché per dire il primo posto in giappone in automatico ha provocato l'invito a una tournée giapponese di 4 o 5 date che purtroppo non possiamo fare a tokyo non si può andare in questo momento però il tour è pronto appena ci dovesse ci essere la possibilità saremo a giù molto di tokyo a yokohama altre due tre città importanti del giappone e in effetti un gruppo come il vostro che deve stare sul palco ci tocca e contiamo di parlo molto presto senti le pagine social ce le dici così veniamo un po a curiosare allora abbiamo twitter chiocciola camera doppio underscore soul poi abbiamo il nostro sito web che www.camerasoul.eu che è quello di che vi consiglio di consultare più di tutti perché aggiornatissimo e poi abbiamo facebook ovviamente con camera soul e instagram chiocciola camera soul official bene a questo punto io ti chiedo di lanciare il brano dai camera soul night people i met grazie mille benvenuti e voi continuate a seguirci ciao 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 Grazie a tutti 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 Grazie a tutti